Dopo l'importantissimo pari allo Juventus Stadium, il Napoli cerca continuità anche in Coppa Italia affrontando giovedì al Maradona e il Palermo, poi un miniciclo che sulla carta è alla portata della squadra di Conte, con Monza e Como in casa, poi dopo la sosta Empoli in trasferta e Lecce a fuori grotta. Fare più punti possibili sfruttando il calendario e forti del secondo posto in classifica, a meno uno dalla capolista e non è prematuro pensare al Napoli in Champions o addirittura in corsa per lo scudetto. Un altro dato positivo in favore degli azzurri è la ritrovata solidità in difesa. Il Napoli è imbattuto da 341 minuti, l'ultima rete l'ha realizzata a Bonni e su calcio di rigore nella gara contro il Parma. In meno di 80 giorni il tecnico ha già dato solida organizzazione e nuova mentalità. Ha deciso di investire sulla fisicità di Buongiorno, Lukaku e Mettomini, i trennessi tra i titolari. Il 4-2-3-1 ha consentito di coprire meglio il campo, la Juve non ha trovato gli spazi in ripartenza fatali nei buchi di Cagliari, però la maggiore copertura ha penalizzato la fase offensiva degli azzurri. Ed è qui che si gioca la sfida di Conte, trovare il giusto equilibrio puntando sulla crescita di Quaraschelia, Politano, Neresh e Lukaku. Conte è partito in questa stagione con Kvara e Politano dietro l'unica punta, protetto dal quintetto in mediana. Ora può puntare anche su Gilmour e Mettomini per un assetto più solido, senza dimenticare Neresh e Raspadori, perfetti per uscire dalla pressione e piazzarsi in un tridente, e poi l'alternativa Simeone. Per questo ciclo di partite mancherà per buona parte Alex Meret, che ha riportato nell'ultima sfida con la Juventus una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Meret tornerà a disposizione con ogni probabilità solo dopo la sosta di ottobre, quindi salterà le prossime tre gare degli azzurri. Al suo posto Elia Caprile. Ilia Caprile. Ilia Caprile.